Ciao a tutti, ciao a tutte, siamo tornati con Tintoria, la quarta puntata. Tintoria è il podcast di Daniele Tinti, io sono Daniele Tinti e l'ospite della quarta puntata è Pietro Sparacino. Ciao amici di Tintoria. Ciao Pietro, allora, chi è Pietro Sparacino? Io l'ho conosciuto perché quando mi sono approcciato al mondo della stand-up comedy, dopo essermi visto tutti i comici americani e inglesi, ho detto ma chi è che fa stand-up comedy in Italia? E ho iniziato a informarmi e ho visto che stand-up comedy in Italia lo faceva Satiriasi, che era un collettivo che faceva dichiaratamente stand-up comedy. E all'interno di Satiriasi c'era anche Pietro Sparacino. Poi nel corso degli anni io ho iniziato a fare stand-up comedy e io e Pietro ci siamo conosciuti e quindi è un mio collega senior, un collega che ha molti più anni di esperienza di me, con cui ho avuto il piacere di lavorare e collaborare. Infatti quest'anno, questa stagione abbiamo organizzato una rassegna al Monk che si chiamava State Comedy Live, era una rassegna secondo me molto bella al Monk e ci siamo divertiti e io mi sono divertito a lavorare con Pietro e adesso ce l'ho come ospite. E quindi visto che c'ho una persona che fa stand-up comedy da prima di me, che ha più esperienza di me, la prima domanda che gli faccio non è sulla stand-up comedy. Perché Pietro ha... tu hai lo spettacolo nuovo che si chiama Dio degradabile, il potere, il logore, chi ce l'ha? Che è lo spettacolo nuovo di stand-up comedy che hai fatto alle mura pochi giorni fa, che io non ho potuto vedere, ma mi sarebbe piaciuto molto vedere. Ma non ne parleremo adesso. Non ne parleremo adesso, ne parleremo dopo. No, perché la cosa di cui io ti voglio parlare è appunto invece lo spettacolo teatrale che tu hai, che porti in giro, che si chiama Malandrine. Malandrine. Malandrine, che parla di... parla in drangheta. Drangheta, sì, perché malandrine e anche rimaggi sono dell'andrangheta. Ecco, è il sottotitolo. È uno spettacolo di... sì, di teatro, ma di teatro civile più che altro. E siamo in scena io e Francesco Forgione, che è nome e cognome di Padre Pio, ma lui non è Padre Pio. Francesco Forgione, nome e cognome di Padre Pio. Lui è un ex deputato e soprattutto ex presidente della commissione parlamentare antimafia. Quindi in scena siamo io e lui, lui il serio, io il faceto. Quindi mantengo la mia, insomma, la mia versione di comedian anche in un contesto teatrale, perché poi lo spettacolo ha come punto di partenza quello che è in Italia, le aziende vanno male, le uniche aziende che vanno bene sono le mafie e quindi per un giovane forse conviene affiliarsi alla mafia. Quindi io chiedo suggerimenti a lui su quale delle tre mafie italiane, quindi le più grandi Camorra, Cosa Nostra e Andrangheta, convenga oggi affiliarsi a quale delle tre. Ovviamente lui mi risponde Andrangheta perché lo spettacolo è sull'Andrangheta. Sull'Andrangheta. È quella che fa più soldi tutti perché fanno la cocaina. Assolutamente, perché hanno i contatti con i narcos colombiani. E da lì, insomma, questo pretesto, questo piccolo pretesto drammaturgico, ci porta nel viaggio della scoperta dell'Andrangheta. Quindi ci sono diversi passaggi che spiegano la struttura, le regole, il battesimo. Ovviamente tutto in un contesto teatrale, quindi ci sono dei quadri prettamente teatrali. Ci sono dei video che accompagnano la drammaturgia dello spettacolo, intercettazioni vere, perché lo spettacolo è tutto sulle intercettazioni praticamente. Cioè noi facciamo parlare gli andranghetisti. Ah, ok, questo l'ho capito. Anche i Re Maggi sono dell'Andrangheta è il testo di un'intercettazione. Un andranghetista che dice all'altro, perché in un giuramento giurano sui Re Maggi, e quest'altro in un'intercettazione gli chiede, ma com'è possibile che dobbiamo giurare sui Re Maggi? E l'altro gli dice, ma come? Certo dobbiamo giurare. I Re Maggi sono tre, sono tutti e tre cattolici, e quindi per logica sono dell'Andrangheta. Non ci potesse essere altra alternativa. E poi insomma c'è tutto un finale molto duro, con una intercettazione vera, con l'audio montato su un video di Maiali, l'intercettazione di questo tipo, che racconta a un suo collega, con un accento romano, perché lui è andranghetista, ma è quello che gestisce gli affari a Roma. Quindi è romano, a tutti gli effetti, con questo accento romano, racconta al suo collega come ha eliminato il corpo di un rivale della famiglia avversa durante una faida e l'ha fatto mangiare ai Maiali. Quindi raccontiamo questa vicenda con un video dietro che fa vedere scene di Maiali. Inizialmente il pubblico è disorientato perché si capisceva a mano che si entra nel vivo dell'intercettazione e finisce ovviamente... Vabbè, non lo dico qui come finisce. Ok, non spoiler. Vabbè, ovviamente non mi affila l'Andrangheta, ecco, perché comunque è uno spettacolo che portiamo anche nelle scuole, quindi stiamo lavorando sia con i trienni delle scuole superiori sia poi con gli adulti. E prossimamente siamo a Catanzaro, Marsala, Palermo, Lecce, abbiamo fatto già Pisa, Brindisi. Allora, me ne approfitto per farti una domanda. Tu porti uno spettacolo che comunque parla dell'Andrangheta, immagino non... Immagino toni comunque negativi, poi... Cioè negativi da persona che si oppone all'idea dell'Andrangheta e lo porti per esempio a Catanzaro. Non hai paura, cioè poi paura nel senso che io non penso che nessuno ti venga a spararsi, non ti preoccupare, puoi mettere silenzioso, tanto questo è un podcast di... È libero. Sì, sì, assolutamente. Che poi è just it, capito? Quindi è un mail assolutamente libero. È un po' che non ti fai sentire. Sì, no, ci dai la recensione, no? Ah no, certo, è il contrario. Oh, sei il nostro cliente numero uno. Oh, dai, dai. No, tu porti un spettacolo del genere in posti come Catanzaro, che è in Calabria e quindi l'Andrangheta sta là. Non hai paura, nel senso che io non penso che nessuno ti spari perché fai questo spettacolo. Però che magari una persona un giorno ti venga a dare uno schiaffo, a dire, oh, ma che cazzo stai a fare? Guarda. Non ci pensi mai? Ci ho pensato tantissimo perché questo è il primo spettacolo sull'Andrangheta, ma sono anni che faccio spettacoli sul mondo della legalità e ho lavorato molto sulla mafia, forse un po' per appartenenza territoriale. Con questo spettacolo devo dire che alla paura ci ho pensato più di frequente rispetto alle altre esperienze che ho avuto nel campo della legalità perché oggettivamente mi fa più paura. Cioè oggi, perché è più viva, la senti più presente, l'Andrangheta in qualche modo. È la prima volta che portiamo questo spettacolo in Calabria la settimana prossima. Quindi sono curioso di capire come andrà e comunque lui lo sa, lo ribadisco anche qui, se proprio dovessero colpire qualcuno, che colpissero comunque Francesco Forgioli. Perché tu immagini il secondo anno di questo spettacolo, non dico fargli male, ma una feritina, non lo so, una strisciata alla macchina, una cosa, un gesto intimidatorio, uno sarebbe pubblicità, due, il secondo spettacolo, il secondo anno, io potrei andare da solo tranquillo con la pubblicità data da questo attentato. Certo, questo mi sembra molto nobile. Un attentato piccolo, non grave, insomma. Ce l'ho un po' di paura e ce l'ho. Mi avevi detto che avevano trovato sul comodino una persona che era stata ammazzata, adesso non mi ricordo quella la cosa, il libro da cui è tratto. No, hanno ucciso il giornalista slovacco il mese scorso e pare che sia stato ucciso da famiglie legate all'Andrangheta. Questo giornalista aveva sulla scrivania la relazione fatta da Francesco Forgione quando era presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. Ah, ok, perfetto. Quindi c'era proprio lì, Francesco Forgione, c'era scritto, era quello. Quindi il giornalista stava studiando su quella relazione. Beh, questo... No, mi fa piacere, sai, collaborare anche con persone così lontane dal nostro campo e dal nostro mondo, perché comunque è veramente un confronto altro. Cioè io, grazie a Francesco, poi ho conosciuto studiosi dell'Andrangheta, ho conosciuto persone delle forze dell'ordine che si occupano, per dire, il responsabile di tutti i collaboratori di giustizia. Ok. Cioè, comunque è un confronto con persone che non conosceresti mai. Sì, no, certo, normalmente non ci parleresti. Sono persone che fanno vite particolari, fanno lavori assurdi. Fanno vite che noi non riusciamo manco a immaginare. No, no, infatti. Cioè, stai lì e dici, ok, come vive una persona che fa questo lavoro qui? Non abbiamo idea, veramente non abbiamo idea. E la cosa figa è che quando parlano tra di loro, così come noi parliamo di calcio o di figa, cioè loro parlano di Andrangheta. Ah, sì. È meraviglioso ascoltare la conversazione loro. E anche quando stanno davanti al caffè parlano, ma lo sai quel boss che ha fatto con la figlia del nipote, della fai d'avversa? Ah, sì, ho sentito, me l'ha detto il capo della squadra mobile dire e giocare. Ah, sì, ho parlato con il procuratore di... Quindi è un mondo, è un mondo veramente... È un mondo incredibile, immagino, immagino. Che è un mondo particolare, quello dell'antimafia, cioè veramente... Sì, io non sono mai entrato là, ma immagino che sia proprio un mondo strano, perché... Riescono a riprodurre i meccanismi mafiosi, e questa è la follia. Cioè ci sono gli stessi giochi di potere che poi ci sono in qualunque altra organizzazione. Nel senso? Nel senso che veramente sono piccole micchie di potere, quindi molte volte l'associazione X non va a una manifestazione perché c'è l'associazione Y. È come se qualcuno dell'antimafia fosse più antimafia di qualcuno di un altro. Ah, ok. E quindi è... Per me che sono nell'antimafia ma sono esterno, cioè perché essere nell'antimafia è una cazzata, cioè nel senso tutti dovremmo essere... Certo, in teoria tutte le persone che non sono mafiosi dovrebbero essere antimafia. Cioè appunto, il fatto anche di riconoscere l'associazione antimafia, non c'è bisogno di riconoscerlo, è ovvio che sei antimafia. È un po' come la cazzata, la società civile. I politici e la società civile. La società civile è società civile. Sì. Quindi per me che sono antimafioso ma sono esterno a queste dinamiche, insomma... È divertente. Sì, è divertente. Studiarlo insomma è divertente perché tu ti trovi con il sindaco, del paesino X che ti fa lo spettacolo contro la mafia, ma poi tu vedi che lui replica veramente le stesse dinamiche del boss, del capo mafia, quindi tutte le varie dinamiche di potere, di spartizione, di giochini loschi insomma. Sì, sì. Senti, e invece da un punto di vista tecnico, tu hai già fatto, non so questa cosa, hai già fatto teatro? Sì, sì, sì. Ah, tu, tu, perché io questa cosa, non lo so, è una delle cose di cui dovevo parlare. Stavo per dire nasco attore. No, in realtà... Si può dire comunque così? In realtà ho fatto teatro, ma sempre un teatro... sempre teatro civile, cioè ho fatto delle commedie, ho fatto delle cose, ma non ci ho mai puntato tanto perché comunque stare sul palco da solo a fare stand-up è l'obiettivo, è quello che faccio, è quello che mi piace di più, è quello che puoi fare. Quindi ho fatto vita di compagnia per sei anni, una compagnia stabile, ho fatto tantissimo teatro ragazzi, ma proprio tantissimo, ti parlo di circa 5.000 repliche di spettacoli nelle scuole di tutta Italia. Quindi tanto teatro ragazzi e lo spettacolo di stand-up comedy, il nuovo monologo di Odegradabile, parte proprio dall'esperienza che io ho avuto con i bambini, perché io ho iniziato come insegnante di teatro per bambini e come attore, tra grandissime virgolette, in spettacoli di teatro ragazzi. Quindi la palestra con i bambini poi mi ha portato a... Va bene, va bene, quindi la domanda che mi ero preparato non avendo studiato come è stato fare il palco passando alla stand-up comedy, non vale più perché già l'avevi fatto. Ma poi ti ripeto, io nello spettacolo mantengo molto il mio essere comico, cioè lo spettacolo inizia con un monologo, non lo chiamo di stand-up comedy, ma con un monologo brillante che dà immediatamente modo al pubblico di capire che tipo di personaggio sono. Cioè io salgo sul palco con nome e cognome, non sono un personaggio all'interno di uno spettacolo, cioè non è Harold Pinter, è una cosa in cui io sono Pietro Sparacino con nome e cognome, in cui racconto che faccio il comico nella vita. Quindi comunque... Sono io, cioè non è una commedia, non c'era quarta parete. Non ci sono molte pareti. No, non c'è per niente la quarta parete, perché è proprio comunicativo lo spettacolo. E questo è sempre... Allora, la domanda la ribalto, questo sei sempre riuscito a farlo o averci messo in mezzo tutta la stand-up comedy ti ha aiutato a farlo? Perché la stand-up comedy comunque tende a togliere pareti. Però sono percorsi paralleli che io ho fatto, quindi non ti saprei dire... Cosa ha fatto cosa. Esattamente, sono tutti i percorsi che io ho fatto contemporaneamente, quindi boh, boh. Va bene, va bene, ok, ok, ok. No, sì, questa è una mia curiosità tecnica, però... Non ho veramente idea. No, no, perché avendole fatte insieme ci sta che non sai cosa. Sì, è uno sviluppo, cioè io diciamo che nei primi anni, io ho iniziato prestissimo, ho iniziato a fare cabaret nel 2003 con un duo. Quanti anni avevi nel 2003? Avevo 21 anni, mi sono fatto nei primi due anni 27 festival. 20 festival di comicità in giro per tutta Italia, quindi ho iniziato prestissimo, poi ho cominciato a fare spettacoli per bambini, praticamente contemporaneamente, e quindi il mio essere artista si è sviluppato in maniera veramente parallela. Mi dividevo tra la vita di compagnia e la vita da comico, solista. E allora poi... Però la stand-up comedy è arrivata molto dopo. E allora poi come si è arrivata alla stand-up? Perché io, io lo so, cioè io guardavo su YouTube e ho detto voglio fare sta cosa, invece tu già facevi e poi l'hai trovata. Allora, tutto nasce dall'amicizia con Filippo Giardina. Quindi io conosco Filippo da molto prima di Satiriasi, noi facevamo... Filippo Giardina, ospite di Tintoria, quindi andatevi pure a sentire quel podcast e facciamo visualizzazioni. Il maestro, il maestro. Filippo, amici con Filippo da molto prima di Satiriasi, io faccio tanti festival, piano piano mi faccio conoscere, comincio a fare le mie serate. Ricordo che io ho iniziato con i personaggi, il primo personaggio che facevo era il figlio di Berlusconica, caratterizzato come un bambino piccolo, da imbecille. Quindi comincio con i personaggi, Filippo Giardina mi tartassa e mi dice guarda che quello che ti fa stare bene sul palco sono i monologhi, perché porti te stesso, quindi il superamento dei miei ostacoli, delle mie barriere che vi ero costruito, i primi monologhi, è il primo spettacolo che non era stand-up, io lo faccio sul mondo del precariato. Quindi diciamo che era una forma di Satira, vogliamo chiamarla. Una Satira leggera, una Satira di costume, perché comunque sempre a livello di comicità il mio obiettivo è stato quello, anche quando facevo il figlio di Berlusconi, cioè l'obiettivo era fare Satira, non era fare il comico, non mi è mai interessato. Dopodiché con lo spettacolo sul precariato comincio a fare la tournée con Giovanni Cacioppo, la tournée ci porta allo Zelig, allo Zelig arrivano gli autori di Colorado, non la sta commistione, vedono lo spettacolo, io faccio la mia ora di spettacolo e mi chiamano a fare Colorado con i monologhi sul precariato. Quindi 2008 Colorado, 2009 tranquillo, rifai Colorado, rifai Colorado, porto i testi, mi chiedono più Satira, io porto i testi, mi dicono no, troppa Satira e lì parte Satiriasi, lì mi chiama Filippo Giardino e mi dice senti io sto mettendo in piedi questa roba qui e io devo essere onesto, io non avevo mai sentito il termine stand-up comedy fino a quel giorno, non sapevo che cazzo fosse quando ok, comico in piedi col palco, con il microfono, perfetto ci siamo. Quindi comincia il percorso e devo dire che i primi due anni, cioè per me sono stati palestra, cioè io arrivavo lì e imparavo da chi era più avanti di me, da un punto di vista di scrittura satirica, da un punto di vista di conoscenze, conoscenze tecniche, non conoscenze personali, e quindi... Guarda c'è sto cane che è un po' il cazzo straordinario, il cane si sente che non so come toglierlo. Uccidendo il cane? Non lo posso fare, io ho un cane enorme, abbiamo il mio cane che è immenso, ha 5 metri che dorme, c'è un cagnolino da qualche parte a Roma che entra dritto nel microfono, e vabbè. Il ci guava quel cane fastidiosissimo. Se non lo riesco a togliere in post-produzione e lo sentirete tutti, altrimenti non sapete cosa stiamo parlando, è meglio così, meglio così. Va bene così, magari riusciamo a tagliare pure questa parte del cane. Ah, può darsi, può darsi. Credo di no perché a me stava interessando molto. Ma è bellissimo, io lo chiamerei il cane che abbaglia. Il cane che abbaglia, è il titolo. Il titolo e poi sottotitolo, va bene, vabbè, sottotitolo o tintoria. Un giorno d'aprile, va bene. E quindi, vabbè, ok. E parte Satiriasi, insomma. E parte Satiriasi, comincia così, Satiriasi. E Satiriasi, in che anno è partito? 2009. Ok. 2009. Al Mezz. Al Mezz. Al Mezz a San Lorenzo, a Roma. A San Lorenzo, che adesso è un locale chiuso. Che poi è diventato il Central Misaka, era un posto gestito da rumeni, pieno di senegalesi. Poi una cosa tipo latinoamericana. E poi è finito, e ora non è più niente. Poi è chiuso, poi è finito. Chiuso, e poi dopo due anni, vabbè, il salto alla locale Atlantide. E lì, insomma... E lì è stato figo. Quello è stato figo, no? Perché è cresciuto il movimento di pubblico che vi veniva a vedere. Ma guarda, devo dire che già dal Mezz noi abbiamo fatto sempre serate con oltre 120-130 persone al Mezz che ne conteneva 60. Sì, mi ricordo il Mezz. Quindi era veramente il delirio, da subito. Perché era diventato però di tendenza. Quindi i primi due anni avevamo un sacco di pubblico che non capivo un cazzo, però fondamentalmente. Cioè era proprio completamente ignaro di quello che stavano facendo. E che stavano guardando. Che stavano vedendo loro. Quindi zero. Poi è arrivato il pubblico competente. Cioè, competente. Gli appassionati di stand-up comedy. Chi si è appassionato... Eh, infatti pure la gente che si è appassionata con voi. Assolutamente. Ma anche gente... Secondo me il successo più grande nostro, quindi dei primi e delle seconde e delle terze generazioni di stand-up comedian, è che siamo comici per quelle persone che non andrebbero mai a vedere una serata di comicità. Cioè, noi secondo me dobbiamo andare a intercettare tutte quelle persone che se tu gli chiedessi andiamo a vedere una cosa comica ti direbbero no, la comicità mannoia è di basso livello perché siamo abituati a questo. Quindi nel momento in cui gli fai scoprire che c'è qualcosa che non è la comicità... veramente non so come definirla per non essere offensivo ma è una comicità diversa. No, no, vabbè. Credo si capisca. Popolare. Ok, popolare. Con tutta la nobiltà della comicità popolare. Veramente, dando tutta la nobiltà alla comicità popolare. però... No, è qualcosa di diverso. Di diverso. Ok, diverso. Che comunque sia... Sì, sì. Un sacco di persone non sanno che c'è e infatti è vero che un sacco del nostro lavoro è far vedere a persone che non sono preparate... non sanno cosa vanno a vedere una cosa e farle divertire. Forse è proprio questa, sai, la differenza... o meglio, una delle differenze tra la stand-up comedy e il cabaret visto che in questi anni ci siamo un po' divertiti. Certo, certo. Noi come movimento, come gruppo ovviamente siamo stati fondamentalisti perché nel momento in cui tu devi arrivare cioè il prodotto sul mercato si lancia in maniera violenta non si lancia in maniera... non ci vai in punta di fioretto ci vai con la spada. Ah no, certo. C'era molto questa cosa noi così... quindi ovviamente ci siamo attirati un sacco di simpatie ma soprattutto un sacco di attipatie nel mondo dello spettacolo. Sì. Cioè quando Pintus si sente in dovere di rispondere... Pintus, voglio dire, c'hai un sacco di soldi c'hai un sacco di serate fai le prime serate su Italia 1 ti senti in dovere di rispondere su Facebook a un post di Filippo Giardina nel lontano 2013 forse 2014 vuol dire che comunque sei andato sulle palle a un po' di gente quindi visto che nel corso di questi anni ci siamo un po' divertiti un po' tutti a fare la dialettica tra il cabaret la stand-up comedy le differenze forse una potrebbe essere questa cioè ci rivolgiamo a un pubblico diverso che si interseca forse all'estremo cioè io lo capisco che senza andare sulle categorie sociali però che cazzo ne so un impiegato alla posta che si alza la mattina va in ufficio si fa le sue otto ore di ufficio con le colleghe rompi i coglioni con tutta l'atmosfera pesante torna a casa ovviamente non gli va di sentirsi il monologo con il risvolto satirico la battuta intelligente che deve pensare ovviamente a lui gli va di vedersi una cosa che lo rilassa certo ovviamente quindi ci rivolgiamo forse veramente a delle nicchie diverse si è vero sono nicchie diverse che poi si sovrappongono agli estremi si agli estremi magari si sovrappongono ma così come si sovrappongono anche i comedian e i cabarettisti agli estremi ah si certo certo cioè perché poi la differenza è liquida è fluida è un gioco cioè di battute che uno direbbe questo è battuta di cabaret all'interno del monologo di stand-up ce ne possono stare un miliardo assolutamente e viceversa ci stanno versi di cabaret che sono monologhi di stand-up comedy che sarebbero in teoria monologhi di stand-up comedy ma ci sono tanti permettimi tanti pseudo stand-up comedian della nuova generazione che fanno battute da stand-up comedian ma non hanno lo spettacolo di stand-up comedy e se tu fai battute da stand-up comedian cioè la stand-up comedy non è la battuta cattiva no quello sono d'accordo adesso c'è un po' la cosa che è la vulgarità è quella la chiave è quella che se sei greve allora che non è quello è un po' un misunderstanding che secondo me quando si inizia un po' uno ce l'ha poi idealmente lo impara facendolo sì con non mi ricordo con chi dicevamo che la sborra è la suocera della stand-up esattamente esattamente mi sembra proprio ci metti la sborra e allora è il marchio di fabbrica come fai a non ricordarti hai fatto quattro puntate questa è la quarta no 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 non era con uno degli ospiti qua no credo mi sa Stefano Rapone però non voglio cioè che non era in puntata credo nella vita di aver detto questa cosa insieme a Stefano però non mi andava di tirare in mezzo Stefano che lo tiro in mezzo sempre sempre va bene perché è sempre nella tua vita Stefano Rapone è lo stalker della tua vita è veramente veramente così e oh va bene abbiamo coperto scusami un sacco di cose che penso di chiederti no su questa cosa della stand-up poi decidi quello che ho da selezionare eventualmente no manteniamo tutto mi sto divertendo fai tu con qualche collegano quando si parla del movimento della stand-up comedy dovremmo fare tutti movimento dovremmo fare tutti gruppo perché la stand-up comedy cioè le compagnie di teatro di prosa non è che c'è il movimento delle compagnie di teatro di prosa cioè ci sono le associazioni tantissimi gruppi di realtà di teatri di prosa tantissimi gruppi sparsi in giro la stand-up comedy è un'arte una forma d'arte come centinaia di altre forme d'arte ma ci sono i gruppi nella stand-up comedy ma non c'è l'obiettivo di creare questo movimento questo famoso movimento di locali poi in cui andiamo tutti di pubblico che si appassiona tutta la stand-up comedy no cioè il pubblico magari che viene a vedere te Daniele Tinti non è lo stesso pubblico che potrebbe venire a vedere me o magari sì e magari non gli piace lo spettacolo poi ah sì certo cioè non è che perché se facciamo stand-up comedy quello secondo me sai da cosa sai da cosa è figlio dal fatto che comunque sia la stand-up comedy in Italia risente dell'immagine che abbiamo nella stand-up comedy inglese e soprattutto americana e per cui un sacco di persone che fanno stand-up comedy anche un sacco di locali che propongono la stand-up comedy hanno in mente la struttura che c'è in America che invece è una struttura di quel tipo cioè un miliardo di locali il pubblico che ha proprio la cultura di andare a vedere la stand-up che se la portano dietro da decine di anni però aspetta Dani è anche vero che noi dell'America dell'Inghilterra vediamo sempre il meglio no 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 sì però nel senso al di là del meglio che vediamo noi poi appunto parleremo anche di Netflix dove c'è pure il patch cioè c'è una roba che fa schifo assolutamente parrate però ci stanno locali che fanno stand-up tutti i giorni in giro per l'America è impensabile che in Italia ci sia anche un solo locale che fa stand-up tutti i giorni perché non c'è il pubblico cioè la gente non sa vuole vedere questa cosa qui l'americano quando arriva in Italia dice cazzo in Italia c'è calcio ovunque è culturale è culturale ovvio noi stiamo provando abbiamo provato nel corso di questi anni un'operazione culturale è stato come portare il calcio negli Stati Uniti hanno fatto un'operazione di marketing hanno comprato i giocatori migliori questo è è un movimento culturale organizzato anche l'altra diatriba che c'è Satiriasi ha portato la stand-up comedy in Italia allora Paolo Rossi che era e allora Patrucco che era Satiriasi è la prima forma di stand-up comedy organizzata cioè questo è cioè prima delle BR esisteva il terrorismo rosso ma le BR si sono organizzati noi è uguale cioè il movimento si è creato perché un gruppo di persone hanno detto regà noi insieme come gruppo stiamo facendo stand-up comedy tutti insieme poi sì Paolo Rossi faceva stand-up vogliamo dire che Paolo Rossi faceva stand-up comedy diciamo che Paolo Rossi vogliamo dire che Patrucco faceva stand-up comedy diciamolo Grillo va benissimo però è oggettivo che il movimento è nato grazie a una persona malata quale è Filippo Giardina e tanti altri malati che ci hanno creduto che si sono accollati questa cosa noi nei primi due anni cioè io poi ho rispetto a tutti gli altri di Satiriasi io ho il passato da cabarettista quindi cioè io me ne sono fatte tante serate di merda nelle piazze ma me le faccio anche adesso cioè non ho problemi a dirlo che mi faccio le serate difficilissime di piazza sempre meno ovviamente ma io nel 2010 facevo in un'estate 70 date 70 date in piazze sagre bambini vecchi con il repertorio del precariato ma mai con un repertorio di stand-up perché non è quello che chiedono non è quello il pubblico è chiaro quindi io che ero in bilico tra due mondi e quindi avevo contatti con il mondo del cabaret sia da un punto di vista di colleghi sia da un punto di vista di agenti promoter gli intermediari che sono queste figure mitologiche meravigliose noi a un certo punto cominciamo a venire schifati dal mondo del cabaret e io ero quello che ne subivo di più le conseguenze perché ero quello che ci stava in quel mondo cioè i vari Saveri Raimondo che ci avevano passato già da autore di Serena Tandini Francesco Lancia Claudio Fois Filippo Giardina poi in un secondo momento arriva Giorgio Montanini poi arriva Velia Francesco De Carlo cioè venivano tutti da mondi che non c'entravano un cazzo con il cabaret l'unico ero io quindi io mi sono dovuto negli anni togliere tutta tutto il background ovviamente inevitabilmente io ho dovuto distruggere e poi ricostruire sulle macerie piano piano ricostruire sia da un punto di vista di scrittura ma soprattutto da un punto di vista proprio di pensiero comico per questo è culturale perché io nella stand up comedy ci sono entrato con la percezione che fosse qualcosa di da imparare proprio con un approccio culturale nel senso più più largo del termine più largo del termine sto facendo un casino no va bene va bene allora tu fai la domanda allora sì io ti volevo dire che poi tutto questo percorso ha portato cioè hai dovuto distruggere hai ricostruito hai ricostruito ricostruito e sei arrivato a fare una cosa che io ho pensato ammazza che figata pietro è una iena che comunque sia è figo le iene sono fighe è un programma figo c'hanno i servizi fighi i servizi de merda però è un programma che è stato è stato figo c'ha i servizi fighi c'ha le cose fighe poi si dura da vent'anni insomma no certo insomma si adatta ai tempi però le iene sono fighe eh ma stamina eh ma stamina quando c'hai la macchia in Italia poi è indelebile è merda tutto le iene sì esatto no è giusto quello che hai detto ci sono servizi belli servizi meno belli ci sono stati casi interessanti casi meno interessanti però è un programma figo è un programma che è stato figo che è figo c'ha degli oh e tu e tu sei sei stato sei iena sei stato iena sono stato iena sono stato iena adesso sono in stand by invece dei film in stand by oh perché infatti cioè fare le iene io penso che è figata però non è figo come uno se l'immagina cioè uno io che mi vedevo le iene alle medie poi al liceo pensavo le iene erano delle mezze rockstar cioè nel senso vestiti fichi che vanno là a dire ai politici ma che sei stupido e tu mazza che figata che vita e poi lo vedi in televisione e pensi questo fai i sordi fai i iene esattamente rock and roll che figata e invece non è proprio così allora non è proprio così però per me Pietro Sparacino e per me Pietro Sparacino comico cioè le iene parte come un programma principalmente di intrattenimento le prime iene sono Beppe Quintale Dario Cassini Fabio Volo chi c'era di comici comici Lillo e Greg è un programma di intrattenimento quindi i primi anni è così poi pian piano i tempi cambiano la società cambia diventa più sempre più tv di inchiesta più giornalismo più pancia quindi oggi le iene è un programma che è su 15 servizi ne ha 10 strappalacrime che comunque ti toccano la pancia 3 di denuncia uno comico e uno brillante quindi oggi fare comicità le iene è difficile uno perché le iene ha fatto un sacco di comicità quindi qualunque tipo di meccanismo tu pensi dici l'abbiamo già fatto ma quello là in cui intervisti e poi cambi l'abbiamo già fatto ma quello in cui fai l'abbiamo già quindi è difficilissimo riuscire a trovare nuovi modi di fare comicità all'interno delle iene di un linguaggio molto definito cioè perché inizialmente io sono arrivato lì e ho detto io ho iniziato come autore alle iene già nel 2012 scrivevo per lo studio perché un programma gratis sulla Rai con il gruppo Satiriasi il capo progetto delle iene mi chiama e mi dice guarda il programma non si poteva guardare però mi piace come scrivi quindi siccome ci servono le battute per lo studio lì io facevo one liner da gratis quindi le battute ci piacciono ti va di fare l'autore e io mi ricordo quando mi è arrivata sta chiamata era la Befana del 2013 la Befana del 2013 era con mio figlio in Sicilia mi arriva sta chiamata abbiamo pensato a te come autore io attacco il telefono prendo mio figlio in braccio l'encenare dico eh amore grandi abbiamo svoltato amore ti porta a vivere a New York contento va bene l'autore rimaniamo ci sentiamo tra un paio di giorni definiamo la situazione burocratica alla fine io su 15 puntate come autore delle iene scrivevo tipo 150 battute a settimana sull'attualità tipo 1500 euro lordi quindi mio figlio l'ho lasciato lì dove stava New York non è andata a New York quindi da lì autore l'anno successivo gli propongo un servizio gli propongo un servizio che oltretutto poi è il servizio in origine era il servizio che poi mi ha creato più casino alle iene poi ti chiedi di parlare perché a me è un'altra storia assurda ne parlo adesso ne parlo subito perché io arrivo alle iene con quest'idea è vero che i gay hanno meno diritti degli etero in Italia vediamolo subito quindi l'idea era quella di andare io e un altro in macchina a fare delle cose ordinarie quindi andare alla pompa di benzina salve scusi ci può fare benzina sì però guardi siamo gay che cazzo me ne frega stacco i gay possono fare benzina quindi questa è la chiave questa è la chiave la chiusa sarebbe stata andare in una scuola che poi era la ciccia satirica del pezzo andare in una scuola in più scuole cattoliche alle quali avevo già telefonato quindi avevo fatto queste telefonate io sono andato alle iene con le telefonate fatte scuola cattolica salve c'è posto sì voglio scrivere mio figlio lì sa questa storia dei gender a scuola la teoria gender eccetera eccetera eh sì siamo preoccupati anche noi io voglio proteggere il mio figlio voglio scrivere una scuola cattolica sì guardi c'è posto ok posso venire domani sì assolutamente bene allora ci vediamo domani vengo io il mio compagno e da lì le risposte sono state ah non c'è posto ah mi scusi devo chiedere alla madre superiore perché qui ci sono islamici ebrei atei ma i gay non so se li prendiamo quindi avevo queste telefonate quindi il pezzo doveva essere questo sì con la chiusa i gay non si possono iscrivere alla scuola cattolica poi ne parliamo con un autore ok il servizio a un certo punto lo mettiamo in piedi poi non si fa poi facciamo altro perché le iene è una dinamica continua martellate pam 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 quindi cominciamo con altri servizi comincio a fare questi servizi questo servizio rimane un po' là a un certo punto dopo un anno di iene viene fuori di nuovo questo servizio cominciamo a parlarne con un altro autore che è bravissimo ma in quel momento io poi ci ho continuato a lavorare con quest'autore ma in quel servizio lì non abbiamo centrato lo stesso punto cioè per me il servizio doveva andare in un modo per lui in un altro modo si sono incontrati questi due mondi che a un certo punto si sono scontrati perché il servizio è oggettivamente la polemica è assurda che ne è nata il servizio però se io dovessi mi vergogno a vederlo giuro mi fa male ogni volta che mi capita di googlarmi così per gioco e vedere che è tra le prime è tra le prime perché è quella che ha fatto più notizie però il servizio è oggettivamente brutto io mi ricordo averlo visto in diretta e ho pensato ah non capisco non ho capito quello che voleva fare ma infatti Dani il problema il problema più grande per me è stato il giudizio o il pensiero dei miei amici perché degli sconosciuti oh sti cazzi hai visto un servizio brutto amen ma il mio pubblico passami questa cosa i miei amici dici Pieni ma che cazzo hai fatto ma che era quella cosa giustamente ma tanto che quando io l'ho visto in redazione e l'ho visto montato io ho detto ragazzi secondo me andiamo a sbattere noi ne avevamo preparati tre e quando lavori su tre servizi contemporaneamente significa tre mesi di lavoro tre mesi di lavoro significa che ti dedichi solo a quello perché sono candid oltretutto quindi la candid può essere che esci un giorno e non te ne entra manco una che hai le telecamere nascoste non sai le angolature e se lo prendi in faccia se si sente la battuta se si stacca il microfono è veramente un delirio la candid quando vai il primo e va così ovviamente io fermo gli altri due perché non volevo rovinare tutto poi quello che ho fatto insomma in dieci anni e più di dieci anni di carriera certo quindi insomma è stato tosto gestire ancora oggi quando ci pensa ancora ci ho per esorgizzarlo però ci faccio l'apertura dello spettacolo vecchio di Subita io ne parlo in maniera diffusa che è pure nello special che hai registrato ho fatto esattamente 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 nello special ne parlo quindi è stato il mio modo per esorcizzare insomma quella quella roba lì anche perché sai cos'è passare per omofobo è brutto io sono stato a casa con un gay cioè un gay è stato mio fratello che mi pisciava dentro l'armadio quando ero ubriaco capito e io gli dicevo a lui santo Dio cioè va bene tutto ma non mi pisciare dentro l'armadio c'è solo questa delicatenza di dietro poi ci dividevamo la stanza quando lui c'aveva l'uomo quando io c'avevo la donna perché stavamo in stanza doppia quindi capito passare per omofobo mi ha dato fastidio ma soprattutto ho capito il meccanismo infame che c'è dietro questo mondo che è quello prima di distruggerti e poi eventualmente di chiederti cioè un giornalista di Repubblica che adesso non mi ricordo dal quale poi è partito tutto il casino ha scritto un articolo ma ha scritto proprio bene figo cioè che quando l'ho letto ho detto ammazza se non fossi io quello che sta massacrando direi è un articolo meraviglioso questo qua dopo l'articolo mi scrive su facebook mi dice salve vorremmo vorrei una una replica del scusami ma tu prima fai l'articolo e poi mi chiedi la replica cioè ma prima chiedi a me cioè nel senso prima chiedi la mia versione e poi scrivi l'articolo e poi scrivi l'articolo completo no prima l'hanno massacrato quindi dopo due giorni mi sento veramente in dovere ma con me stesso non nei confronti di qualcuno con me stesso di fare il video di scuse l'ho visto l'ho visto che su Repubblica bippano cioè su Repubblica e bippano perché dici cazzo tipo perché dico gli insulti che mi hanno rivolto a me e li bippano e li bippano cioè quindi è meraviglioso tu capisci e tutta questa storia si conclude con la mail un messaggio su Facebook di un gay che mi dice io trovo assurda questa polemica lascia perdere tutto quello che ti stanno dicendo sappi che io ti ammiro come artista e come uomo e ti inculerei subito e questo è il finale di questa storia che non ho mai inserito nello spettacolo insomma secondo me ogni tanto però capito comunque è stata una storia assurda è stata una storia assurda e quest'anno da settembre complice anche malandrine di cui abbiamo parlato prima mi sono messo in stand by perché per un giornalista è figo oggi fare le iene tornando alla domanda per un giornalista è molto figo fare le iene perché c'hai a disposizione comunque una redazione che immagina c'è una squadra fortissima e anche un pubblico molto esteso perché lo guardano porco Giuda è grandissimo il pubblico delle iene sia televisivo sia online che magari è un pubblico diverso oltretutto quindi se vuoi fare inchiesta a me mi è stato proposto più volte fai le truffe fai i santoni fai i porconi e poi ci infili le battute ma non è quello che voglio fare semplicemente ma perché non riesco a farlo cioè non perché sai io non lo voglio fare perché no non è il mio non è il mio e non ho il tempo per fare l'inchiesta perché io ho fatto i pedinamenti per fare un servizio alle iene io facevo i pedinamenti a che pedinamenti? ho fatto l'amministratore delegato di un'azienda che non ho mai beccato io ho fatto tre appostamenti davanti all'azienda di sto tipo per beccarlo l'abbiamo seguito con la macchina e non siamo mai riusciti a portare a casa il servizio perché questo non si è mai fatto beccare abbiamo fatto il pedinamento di Maroni ho provato a fare l'intervista ho provato a chiudere delle battute comiche con due bodyguard di Maroni che mi tiravano uno da un braccio e uno dall'altro e poi mi dicevano ma le battute non fanno ridere no non è che non fanno ridere le battute è impossibile fare comicità così sto con la mano di un bodyguard sulla gola non posso fare battute e dopo il pezzo i vigili urbani che ci inseguivano per trovare un pretesto e farci la multa e noi a scappare nei vicoletti di questo paese sperso nelle lande milanesi e non è il mio non voglio fare questo io mi sbatto ma per le serate mi metti veramente una serata un giorno ad Aosta il giorno dopo a Catania lo faccio l'ho fatto e continuerò a farlo ma lo sbattimento che comporta fare le iene in quel modo no perché non è il mio no certo non è il tuo lavoro non è il mio non lo so fare quindi senti adesso a questo punto abbiamo coperto molto organicamente quasi tutti gli argomenti che volevo parlare io una cosa di cui parlo a tutti gli ospiti del podcast ecco è proprio una delle ultime domande che faccio è cosa ne pensano della legalizzazione della marijuana perché è un mio chiodo fisso lo chiedo a tutti quanti ora nel tuo caso so di sfondare un portone spalancato senza carne assolutamente perché tu sei pure ti fai portavoce della causa della legalizzazione tu fai una cosa che io ti invidio molto cioè partecipi pure eventi organizzi eventi cioè serate a tema cose in cui si parla della marijuana della legalizzazione e quindi non so se chiederti cosa ne pensi della legalizzazione cosa ne pensi no però invece ti chiedo cosa ne pensi dell'attuale situazione che secondo me è molto interessante perché adesso siamo in questa strana fase in cui è stata sdoganata l'erba legale che la vendono ai tabaccai al distributore automatico io a Torpignattà al distributore automatico tabaccaio chiuso ho comprato la marijuana no meraviglia non l'ho visto ho fatto un pezzo di stand up al Pierrolefu in cui ho tirato fuori perché l'ho comprato il giorno stesso ho tirato fuori una busta d'erba legale che la compri al distributore proprio l'erba metti i soldi esce dell'erba che per me è assurdo quindi si è creato questo mercato e adesso stanno aprendendo un miliardo di cannabis store perché anche solo vendendo l'erba legale hanno stimato che è minimo da 40 milioni di euro il mercato ma sarà in espansione come è stata in espansione in tutti i paesi però adesso leggevo che l'Italia ha comprato lo stato italiano ha comprato da Aurora che è un'azienda che produce marijuana medica 100 kg di marijuana cioè questo soddisferà il fabbisogno di marijuana medica in Italia io volevo scrivere Dear Aurora 100 kg non basta manco per gli amici miei send more però appunto siamo in una situazione in cui si parla di marijuana c'è la marijuana nei distributori quella senza THC quindi la droga che non droga e però sull'erba legale invece sulla marijuana col THC la legalizzazione tutto tace cioè proprio è morto il disegno di legge tutto tace e soprattutto qualunque governo verrà fuori comunque sarà un governo che non avrà nel programma minimamente un'accenna alla legalizzazione la Lega Nord perché è contraria al Movimento 5 Stelle perché qualunque tipo di argomento etico si tocchi il Movimento 5 Stelle si spacca quindi nel programma 5 Stelle non ci sono punti etici proprio perché è difficile sostenere una tesi che sia contemplata poi da tutti quando si va su argomenti etici quindi a me preoccupa tantissimo ma mi preoccupa anche questa espansione del mercato di erba legale perché oltretutto è quello che dice l'imprenditore che ha creato EasyJoint Luca Merola non mi ricordo il nome lui dice no questo qua è un esperimento per la legalizzazione in realtà no perché oltretutto io penso che tutti i negozi che vendono l'erba finta adesso nel momento in cui vogliono vendere l'erba vira ma non credo guarda però quella è la mia speranza in realtà perché i negozi che stanno aprendo adesso li stanno aprendo ragazzi ragazze giovani vecchi che stanno facendo un investimento e sono negozi che vengono la marijuana però molti anche come copertura all'attività illegale che ci hanno già esatto esattamente quella è la cosa a me piacerebbe perché il problema dell'Italia ovviamente è come sempre la santissima mafia che ci si porta tutti la mia paura è che nel momento in cui si legalizzerà in Italia perché per me è questione di quando e non di se però temo che stanno in Italia che sarà un quando ma un po' troppo è lunghissimo è perché sai adesso lo vedi in America pure in Uruguay lo stanno facendo un sacco di posti in Italia magari fra dieci anni succede la Lorenzino lo sai una delle ultime cose che ha fatto da ministro no non più tardi tre settimane fa già post elezioni quindi ha risultato già acquisito in cui tu sai che hai preso lo 0,1 cazzo perché la Lorenzino ha preso lo 0,5% quindi significa che ti hanno bucciato come politico ha praticamente vietato l'importazione della marijuana svizzera che è praticamente quella che regge il mercato della marijuana legale in Italia non è anche quella che arriva nei negozi tantissime qualità sono erbe svizzere e molte linee usano quell'erba molte catene usano quell'erba lei ha bloccato per incompetenza sostenendo che in Svizzera essendo proibita la marijuana to cure è implicitamente ovvio che è altrettanto proibita l'esportazione in realtà in Svizzera la legge prevede che tu puoi consumare marijuana con un THC e produrre marijuana con un THC inferiore all'1% che è una soglia oltretutto doppia rispetto a quello che c'è in Italia che è 0,5 in Italia quindi come ministro che si occupa di questa roba qui abbiamo avuto un incompetente fino a oggi Dini quando io ho fatto il servizio per le Iene sulla legalizzazione una delle cose carine che ho fatto alle Iene quindi gli amici che ci stanno ascoltando Dini che è stato presidente del consiglio ed è una delle battute che utilizzo anche nel monologo mi risponde il problema delle droghe leggere è che se sommi più droghe leggere diventa una droga pesante cioè tu capisci l'ignoranza che c'è sulla materia ma l'ignoranza data dal bigottismo perché poi nessuno si va a informare nessuno va al di là del concetto e della concezione che sei un drogato sei un drogato drogato basta infatti in Italia c'è ancora questa cosa e infatti è per questo che io penso che rispetto ad altri paesi del mondo dove io sono sicuro che adesso nei prossimi anni succederà tantissimo perché in America è un trionfo la legalizzazione pure in Uruguay che comunque è un paese che non è gli strumenti in America c'ha i suoi problemi c'ha i suoi cazzi pure in Uruguay dopo che è partita male adesso sta andando molto bene però occhio perché non è Stati Uniti d'America sono tre stadi no 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 di più di più adesso sono qua penso dieci però solo in California credo che sia totalmente legale no 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 Colorado Washington State Washington DC Alaska California ma anche alcuni stati strani il Nevada perché va talmente bene fa fare talmente tanti soldi e non ci stanno effetti negativi anzi ci stanno pure degli effetti positivi secondari tipo ridotto il numero di intossicazioni d'alcol ridotto il numero di incidenti stradali ridotti dall'alcol cioè c'è tutta una serie di effetti positivi oltre agli effetti sociali ed economici clamorosi che sono clamorosamente positivi che tutti quanti stanno dicendo vabbè però la California ha non so 200 milioni di abitanti non so quanti è immensa l'hanno fatto sta andando benissimo forse ce lo possiamo accollare questo miracolo economico che fa bene a tutti una volta che lo puoi analizzare e lo vedi là dici vabbè lo faccio pure io ma pensa l'effetto che avrebbe sul traffico in una città come Roma ma in Italia sarebbe un miracolo se tu obbligassi tutti a consumare marijuana la mattina uscivi di casa pensa il relax ai semafori no ma la macchina non la prende più nessuno fare una passeggiata di un'ora proprio una vita serena stai lì forse per Roma dovrebbe essere obbligatoria solo per Roma ragazzi mi raccomando prima di uscire una cannetta tutti quanti ragazzi sì proprio come io mi ricordo cioè mia mamma e mio padre sono due ferventi cattolici ho avuto una storia di cattolicesimo ho fatto il catechista i miei sono educatori ancora insomma poi ho avuto il mio percorso di redenzione e far far entrare loro nel mio mondo quindi anche nel mondo di insomma passione di questa passione per la marijuana ricordo che mia mamma quando sono diventato padre di mio figlio siamo tornati a casa dall'ospedale ho preso il mio cofanetto e mi sono fatto una canna per la prima volta davanti a lei lei sapeva che io fumavo perché io sono sempre stato molto chiaro con i miei ho iniziato a fumare a 21 anni quindi proprio tardissimo perché avevo tutto il retaggio cattolico perché era peccato era peccato ho poi scoperto che era peccato non averla fumata per tutto il tempo che ci separava e i miei genitori cioè ci sono entrati piano piano nel concetto che non sono un drogato o meglio sono un drogato ma non necessariamente la parola drogato ha un'accezione così negativa non fai male a nessuno non c'è un problema che non fai male a nessuno cioè nel momento in cui mi hanno visto che anche sotto effetto di sostanze stupefacenti io comunque riuscivo a gestire la mia vita anzi a volte meglio rispetto a come farei da lucido hanno hanno superato tutti quegli ostacoli mentali che ci sono poi di approccio all'argomento perché poi tutto lì anche qui è culturale è tutta una cosa culturale è culturale però è due coglioni st'intervista è tutto culturale ma la fica ma la fica no niente fica non si è ancora mai parlato di fica no ma abbiamo sublimato oramai basta non si può parlare di fica ancora di fica nel 2018 basta parlare di fica basta parlare di fica secondo me la fica è sopravvalutata no ma poi come argomento basta io ci pensavo l'altro giorno quant'è che non parlo di fica finita l'adolescenza per un po' di posta poi basta beh bisogna capire in che fase della vita sei sì esatto perché poi invece gli amici fidanzati da dieci anni parlano un botto di fica sono quelli che potrebbero averla ogni giorno esatto però non la vogliono più no perché poi a quel punto la sogni la immagini oh Daniele stiamo parlando di fica però cioè per non parlare di fica stiamo parlando di fica stiamo parlando di fica dai non parliamo di fica no perché io nel discorso di prima io la mia speranza sui negozi di cannabis che stanno aprendo adesso è che quello sia un piede nella porta e per cui nel momento in cui legalizzeranno la marijuana col THC queste persone avranno già una loro clientela locale di quartiere di paese di città per cui inizieranno loro a vendere la cosa e non ci sarà la camorra di turno che nel momento in cui legalizzano si prende tutto quanto come fa il gioco d'azzardo che hanno legalizzato il gioco d'azzardo e tutte le sale slot le cose sono tutte più o meno gestite da questa persona che poi è controllata questa persona guarda io me lo auguro me lo auguro è quella la mia speranza me lo auguro però spero che sia il piede nella porta e non il muro di tramezzo e ci hanno aperto la porta per farci entrare in una stanza che in realtà ha le dimensioni ridotte per ora per ora cioè nel senso potrebbe essere quello per ora sì e secondo me sarà così ancora per un po' purtroppo perché questa è proprio l'occasione per questo paese allo sbando cioè tu legalizzi la marijuana e a posto cioè la cosa della legalizzazione della marijuana è che è una cosa parolestamente che pure fatta male andrebbe bene pure se la fai male va bene perché anche solo togli le persone dal carcere smetti di spendere soldi in quel modo e sistemi quelle cose cioè c'è una serie di conseguenze inevitabili proprio tecniche pratiche che sono positive ma pensa anche il lavoro che toglie agli psicologi perché per dire io ho molte volte sottoposto al mio psicologo il senso di colpa di finanziare la malavita cioè è allucinante sta cosa io faccio uno spettacolo sull'andrangheta in cui parliamo dei traffici di cocaina dei traffici di marijuana certo cioè sentirmi in qualche modo colpevole eh sì perché i soldi li abbiamo dati noi ma mi girano le palle beh non sempre sì sempre no sì sì quasi sempre se non è il tuo cugino che la coltiva eh capito tuo cugino che la coltiva o tu che ti accogli il rischio di finire ai servizi sociali con le rotture di palle perché perché stai veramente piantando una piantina sì sì cioè ma qual è veramente qual è il problema qual è il problema cioè se nello spettacolo mi piace dire che Dio l'ha fatta apposta la marijuana per consumarla beh anche le campane che entrano le campane che entrano cane e campane siamo in Italia oh ma chiamalo cane e campane sto programma è bellissimo che stavo dicendo che Dio cioè Dio ha creato tutto affinché noi potessimo usare tutto quello che Lui ha creato ma responsabilmente cioè drogatevi ubriagatevi godetevi tutti i piaceri della vita ma fatelo responsabilmente questo dovrebbe valere secondo me è questo forse un messaggio molto nobile forse su questa nota potremmo chiudere con questa nobiltà con questa nobiltà abbiamo toccato le vette più alte Dio 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 chiudiamo però con la presentazione del nuovo spettacolo esattamente Dio degradabile se hai parlaci di Dio degradabile Dio degradabile Dio degradabile la prima volta che l'ho mandato la scheda non c'era ancora il sottotitolo questa mia collega mi ha detto ma è una cos'è uno spettacolo contro il cattolicesimo no 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 è un attacco contro non è un attacco innanzitutto ma è un piccolo viaggio anche molto intimo che esplora i mondi del potere cioè i vari poteri con i quali abbiamo a che fare nella vita i genitori le maestre il politico di turno l'ideale l'ideologia la religione quindi ci sarà e c'è anche un pezzo su Dio sui fallimenti di Dio il potere logora chi ce l'ha che è il ribaltamento della frase famosa di Andreotti il potere logora chi non ce l'ha perché in realtà oggi poi se vai a vedere è vero che chi ha il potere c'ha il potere ma chi ha il potere oggi è esposto a attacchi continui anche per le dinamiche social per tutta la frenesia che viviamo nella vita di tutti i giorni che è un attimo perderlo quel potere quindi oggi veramente il potere rischia di distruggere chi lo detiene ho fatto questa questa anteprima e mi sono divertito un sacco perché c'erano i monologhi alle mura alle mura sì qualche giorno fa io non so quando la pubblicherai insomma qualche giorno fa vabbè nei prossimi giorni quando l'abbiamo fatta quando è stata la data lunedì il 9 aprile il 9 aprile ho fatto questa anteprima con i monologhi che avevo fatto per una volta al Monk e mai più rifatti dal vivo e con almeno 20 minuti finiti di scrivere venerdì mattina quindi tre giorni prima cioè tante idee che avevo già tante cose da strutturare però è da mettere in fila per la prima volta sono salito col copione sul palco non l'ho mai toccato ma mi è stato di conforto sapere che era lì sapere che era lì e quindi ho fatto proprio un salto nel vuoto cioè c'erano pezzi che non avevo mai provato e tu sai che significa non provare no certo che bella secondo me fa ride infatti io sono salito sul palco dicendo così ragazzi è proprio nuovo proprio lo spettacolo è nuovo 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 quindi boh forse potrete assistere a uno spettacolo da paura forse a una cagata pazzesca e alla fine io mi sono divertito un sacco mi sono divertito un sacco il pubblico anche mi hanno detto ho ricevuto commenti positivi mi è stato detto che è stato figo poi io è bello quando secondo me un artista uno che fa il nostro lavoro reputa che lo spettacolo l'ultimo spettacolo sia un passettino oltre il precedente e io penso che questo sia un po' più maturo rispetto a subita molto bene e quindi consigliamo a tutti di andare a vedere di Degradabile che in questo momento è lì stiamo cercando di capire la tour potete seguire Pietro Sparacino sui social su facebook su instagram anche su instagram anche su instagram d'altronde anche su twitter anche su twitter cosa io twitter in realtà avrei anche linkedin ma non lo uso io ho linkedin da social media manager ancora c'è il mio profilo perché mi arrivano le proposte di lavoro ci sono le proposte di lavoro interessanti per te e mi arrivano proposte da social media manager da responsabile del personale quindi credo di non averlo capito bene linkedin forse ho impostato male forse linkedin non ho capito bene fino a quando fino a pochi mesi fa ero anche su tinder non ci sono più perché sono felicemente accompagnato e quindi non seguitelo su tinder perché non troverete le sue date ma facebook e instagram si va bene grazie mille a pietro sparacino che mi sono divertito un sacco io moltissimo andate a vedere dio degradabile la peroni era buonissima molto bene molto bene grazie daniele ciao a tutti ciao a tutte